eccomi qui come sempre cominciamo coprende le occhiaie ho ricevuto questa fondotinta da l'oreal e questa era la prima volta che lo provavo l'ho usato altre due volte e devo dire che il mio giudizio non è cambiato non mi piace moltissimo perché lascia un effetto un po troppo lucido sulla mia pelle fisso la base e opacizzo il viso con la cipre compatta di nabla per il trucco occhi ho usato la mia palette la eye to eye no 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 ed è ora dell'eyeliner eyeliner liquido e questo è dell'oreal sulla palpebra inferiore ho usato la mia matita marrone invece sulla rima interna ho applicato un'altra delle mie matite ed è la creamy stendo il mascara che è di fenty beauty riempio le sopracciglia con la matita di nyx ho applicato le ciglia finte queste sono le mie le portofino al momento non sono disponibili ma come sempre seguitemi su instagram vi farò sapere al più presto quando torneranno disponibili molto carino questo duo matita e rossetto sono entrambi diego dalla palma le ho ricevuti e fanno parte della collezione credo che sia primavera estate fard e illuminante fanno parte della mia palette about face come al solito spero che questo trucco vi sia piaciuto vi mando un grande bacio ciao 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 ciao